C'è qualcosa che non vuoi? Il mio albero non ha i fiori, è quello di Andrea, sì. Il tuo non ha i fiori, perché l'abbiamo piantato dopo, quando sei nata tu. Ma vedrai che crescerà come quello di Andrea. E io quanto ci metto a crescere? Ci vuole ancora qualche merenda. Anche a merenda si cresce, con le buone merende del mulino bianco. Le fragranti frostatine, con la confettura di frutta fresca. Oppure i bomboloni al cacao a lievitazione naturale. Tutte senza conservanti. Mangia sano, torna la natura, con mulino bianco barilla.